Ciao a tutti, benvenuti a questa video visita. Oggi vi presento la casa con i mosaici. Seguiteci sui nostri profili social, sul canale YouTube Agenzia Contarini, tutto attaccato, sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram Agenzia Contarini. Tutte le informazioni di questa casa le trovate sul nostro sito www.agenziapontarini.it e sui 13 principali siti di immobiliare italiano. Casa.it, immobiliare.it della lista e tanti altri. Ricordatevi di mettere mi piace sotto a questo video se vi è piaciuto e anche sui nostri profili social. Ora vi presento la casa con i mosaici. È una bella villa di campagna, alle porte delle Afronsine. Si affaccia sulla campagna ma in due minuti siamo nel centro del paese. E adesso, con la nostra applicazione e con l'aiuto di Google Maps, vi spiego dove si trova la casa con i mosaici. La casa con i mosaici è nella parte alta a destra dello schermo. In 4 minuti puoi andare nella zona sportiva dello Stadio Bendazzi, dove trovi il campo sportivo e la palestra. Ripartiamo dalla casa con i mosaici, che è nella parte destra dello schermo, e andiamo in Piazza Gracci, in 3 minuti, se nel pieno centro del paese, la piazza del comune. Ed ora, sempre dalla parte alta a destra dello schermo, dove c'è la casa con i mosaici, andiamo in un minuto alla Piazza delle Poste. Partendo dalla parte alta a destra dello schermo, andiamo in corso già con Matteotti, alle scuole materne. Bastano 3 minuti. Benissimo! Avete visto? La casa con i mosaici è in campagna, ma è vicino ai servizi del nostro paese. Tutti sceglierebbero di andare a vivere in campagna, perché le case di campagna sono nel vaccinario un'oasi di tranquillità, dove si può vivere serene. La casa con i mosaici è bella, dentro ed anche fuori. Ha finiture molto curate, con splendidi mosaici, che ti accolgono nei diversi ambienti. È un grande servizio, in parte ristrutturato, che troveremo all'esterno del parco. La casa è caratterizzata da grandi ambienti e da grandi superfici finestrate, che la rendono ricca di luce naturale. Adesso vi accompagna all'interno e vi faccio vedere i grandi ambienti che la commuovono. Questo è l'ampio ingresso. L'ingresso di casa accoglie te e gli ospiti ogni giorno ed è in grado di comunicare. È ampio, adatto alla casa, può essere arredato con mobili che ne sfruttino gli spazi. Dall'ingresso andiamo al salotto. È una delle zone più importanti della casa. Tutti lo vivono modo proprio. Sarà la stanza che ti farai su misura. Le finestre sono su un lato. Tre pareti sono liberi per mobili e mensole. Potrai facilmente renderlo adatto alle tue esigenze. Ed ora accediamo alla cucina. Questa soluzione è un bel contrasto, voluto in fase di realizzazione. Una grande cucina all'americana con una penisola di grandi dimensioni. Se preferisce uno stile più classico, questo ambiente si può arredare con un'elegante cucina a parete, un bel tavolo da pranzo è una bella cucina abitabile. Al piano terra troviamo infine due locali. Questo è il bagno. Elegante, con un bel davandino ovale e un'elegante specchiera. Gradevole in rivestimento, è dotato di finestra ed ha un bel box doccia. Vi faccio notare anche il termostato ambiente senza fili che si può spostare. Al piano terra, oltre al bagno, troviamo anche una zona che può essere vissuta in diversi modi. Può diventare una zona a stiro, una lavanderia, un ripostiglio. E guardate anche che bello il gioco di luci che è stato creato sulle pareti. In tutta la casa le finiture sono curate e c'è una continuità anche. Questa infatti è la scala che ci porta su al primo piano e lo stesso motivo viene ripreso anche sulla parete della scala. Eccoci arrivato al primo piano. Questa è la sala dei mosaici. Qui abbiamo deciso il nome della casa e abbiamo visto che non poteva avere un altro nome questa casa. Questa sala in realtà può essere una zona lettura, una zona relax, può essere utilizzata in vari modi, può essere usata anche per l'ascolto della musica. ma è una sala multiuso. E di questa sala vi faccio notare oltre ai mosaici anche il bel pavimento e il bel rivestimento che è stato posato sulle pareti. Siamo così arrivati alla zona notte che conferma uno stile moderno e ricercato nelle finiture. Questa camera da letto matrimoniali ha grandi dimensioni, più grande dei 14 metri classici. Non devi lottare con i centimetri per arredarla, con letto, pomodini, armadio di grandi dimensioni. Questa è la seconda camera matrimoniale della casa. È particolare in quanto le grandi dimensioni consentono di ospitare il letto matrimoniale, il grande armadio ed avere ancora un'ampia superficie su cui sono state distribuite tre finestre che la rendono ricca di luce naturale. Eccoci arrivati nella terza camera. Chiamarla singola e riduttivo. È una bella camera con due finestre, letto, armadio e scrivania. Così anche la zona studio per il vostro bambino non è un problema. La zona notte è completata da questo bel antibagno, grande, quasi un salottino, e da un bagno elegante, con un bel rivestimento e una netta divisione fra la zona dei sanitari e quella della vasca, dove potrai rilassarti e goderti di idromassaggio. Benissimo, vi ho presentato la villa, abbiamo visto dove si trova e abbiamo fatto il giro all'interno. Adesso vi presento il parco. Sono circa 2.000 metri quadrati dove troviamo zone ben definite, la zona solare, una zona conviviale e anche un bell'orto. È piantumato con alberi di alto fusto e diventerà la zona gioco dei tuoi bambini o dei tuoi animali. Immagina quando aprirai questi belli ombrelloni e ti guarderai l'ombra insieme ai tuoi familiari. La proprietà è completata da questo grande servizio. Il tetto è stato rifatto, alcuni ambienti sono già stati recuperati. Può diventare la tua palestra, la tua sala hobby, la zona gioco dei bambini oppure una zona in cui ascoltare musica o suonare la tua musica. Abbiamo terminato la nostra video visita. Spero vi sia piaciuta e vi ricordo di mettere il like. Per avere maggiori informazioni potete contattarci telefonicamente, con email o attraverso i social. Nel post trovate tutti quanti i link. Ciao a tutti!